Musica Benvenuti all'Ategi 10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla vicenda dei rifiuti a Gela. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti immediati all'amministrazione per i grillini. La Giunta continua a far rimbalzare le responsabilità confondendo i cittadini attoniti dinanzi alle tasse da dover pagare e alla totale assenza di servizi. Vediamo. La vicenda dei rifiuti riserva ancora molte sorprese. Dopo aver trascorso un anno a cercare di scrollarsi di dosso le possibili responsabilità su un servizio di gestione rifiuti che probabilmente danneggia l'ente comunale e i cittadini, la Giunta continua a far rimbalzare le responsabilità confondendo i cittadini attoniti dinanzi alle tasse da dover pagare e alla totale assenza di servizi. Lo dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Noi siamo arrivati al 2017 e ci sarà una nuova proroga. L'amministrazione non chiarisce assolutamente quali sono le ragioni o meglio cerca di mischiare le carte. In consiglio comunale fa delle dichiarazioni, in precedenza ne aveva fatte altre. Non riusciamo a comprendere di chi siano le reali responsabilità di questa proroga. Quello che sappiamo è che noi abbiamo una società che aveva vinto un appalto per un periodo determinato e siamo arrivati al 2017 a forza di proroghe. Questo non va bene perché di fatto noi ci troviamo con una gestione dei rifiuti che non possiamo comprendere a fondo. Consideriamo questo aspetto come un aspetto fondamentale. E tra l'altro non riusciamo neanche a comprendere chi dice il vero tra le dichiarazioni del vice sindaco e le dichiarazioni del commissario oggi di missionario Enrico Vella. Ma che tipi di dichiarazioni rilasciano entrambi? Ma allora noi abbiamo da una parte le dichiarazioni del commissario dove la problematica sembra essere riconducibile a delle deficienze in merito al piano d'ambito. Dall'altro lato delle dichiarazioni fatte e tra l'altro quindi ad un'attività che sarebbe riconducibile anche al comune. Quindi una mancanza di tipo amministrativo comunale. Dall'altro lato invece delle dichiarazioni fatte al vice sindaco dove sembrerebbe che la responsabilità sia invece di attribuire a mancanze macroscopiche della regione. Ecco di fronte a questo i cittadini che domande si devono fare? Di fronte a questo i cittadini hanno una città invasa dai rifiuti a tutte le ore del giorno perché ricordiamocelo la differenziata non deve essere calcolata solo a peso. Non possiamo semplicemente dire abbiamo il 47% il 50% il 60% di differenziato. Dobbiamo davvero renderci conto di come il servizio di gestione rifiuti nel complesso funziona. Invito tutti a fare un giro adesso nelle ore mattutine in giro per la città e a trovare rifiuti ad ogni angolo della strada. E questa è una reale problematica. E poi c'è la problematica delle dichiarazioni del vice sindaco in consiglio comunale relativamente alla Gara Ponte. Delle dichiarazioni che non hanno assolutamente chiarito questa questione della Gara Ponte. Il vice sindaco dice che di fatto è una cosa che non potrebbe farsi e che in comuni come Brindisi e Torchiarolo di fatto il Tarra ha bloccato tutto. Da approfondimenti che abbiamo fatto a livello giornalistico quello che abbiamo potuto rilevare è che il Tarra ha fatto altro. A Brindisi e Torchiarolo ha di fatto sì fatto un intervento rispetto a questi comuni, ma non per la Gara Ponte in sé. La problematica riguardava il mancato invito di un'azienda. La verità è che anche a Brindisi e Torchiarolo la vera posizione del Tarra è quella di dire finitela con le ordinanze che reitrano l'assegnazione rifiuti senza una gara d'appalto. E voi nella nota però vi complimentate con i dipendenti della Tecra che svolgono con obbligazione il proprio lavoro. Assolutamente, il Movimento 5 Stelle ha innanzitutto preso a cuore la vicenda dei lavoratori e grazie a un lavoro costante che abbiamo fatto vicino ai lavoratori e tutto il gruppo consigliare oggi quelli che non erano stati inclusi all'interno del contratto di lavoro sono tornati a lavorare per la Treca e ricordiamocelo è un merito soprattutto ai lavoratori che hanno dimostrato di non volere mai mollare il loro posto di lavoro. La pagina della cronaca giudiziaria è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Niscemi coordinati da Andrea Monaco, un pregiudicato di 27 anni. Si tratta, lo vediamo nella foto, di Antonino Cannizzo con diversi precedenti penali. L'uomo, secondo l'accusa, si sarebbe impossessato di diverse armi appartenenti ad un pensionato. Cannizzo è stato sorpreso in flagranza di reato ed è accusato di detenzione di arma clandestina con matricola a brasa e di altre armi proventi di furto. In particolare, durante una perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella sua abitazione una pistola con matricola a brasa e diversi fucili. Ad incastrare il pregiudicato sarebbero state alcune immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto nel carcere di Contrada Balate a Gela. La riforma sanitaria ospedaliera siciliana, abbozzata dall'assessorato al ramo isolano, è destinata a danneggiare ancora una volta l'ospedale di Gela. E se qualcuno si sta trattenendo dal festeggiare è solo perché si è in attesa dell'approvazione definitiva della bozza di riforma, magari promettendo nel frattempo l'istituzione di due o tre unità operativa complessa per l'ospedale gelese. In una prospettiva a medio e lungo termine non si può fare a meno di realizzare che l'ospedale di Gela subirà un danno da questa riforma qualora venisse integralmente accettata nel suo impianto di base. La denuncia è del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Il sistema individuato in Sicilia infatti è quello degli hub e spoc. È un sistema simile ad una ruota di una bicicletta. Gli hub sono il centro, dialogano con tutti gli ospedali del bacino di riferimento e soprattutto ricevono i casi gravi che non possono essere trattati dagli spoc per mancanza in quest'ultimi di strutture adeguate. Gli spoc sono i raggi che non dialogano tra loro né con le altre strutture ospedaliere benché di livello inferiore, di base, di zona risaggiata, a rischio ambientale ma interloquiscono e si interfacciano soltanto con l'hub. Con questa riforma, per dirla tutta, il riferimento per lo spoc Vittorio Emanuele III di Gela è l'hub Santeria di Caltanissetta. Nell'amara consapevolezza che tutte le volte in cui siamo stati associati a Caltanissetta dice il Comitato, Gela purtroppo ha pagato dazio anche con lacrime di sangue. Il Comitato ricorda quanto è successo con la creazione delle ASP in cui Gela perse la sua autonomia ospedaliera con i risultati negativi che tutti vediamo. Caltanissetta diventa dipartimento di emergenza e assistenza di secondo livello e qui iniziano i primi problemi. Il rischio concreto che si rileva per Gela è quello di perdere il secondo livello di ginecologia e ossetricia nonché l'UTIN, l'unità terapia intensiva neonatale. Perché un centro DEA deve affrontare anche le emergenze neonatali, ginecologiche e ostetriche e quindi può un hub essere sprovvisto di UTIN pronto soccorso ostetrico-ginecologico la ginecologia e l'ossetricia di secondo livello? Assolutamente no. Si può creare un altro centro materno-infantile di secondo livello a Caltanissetta? Nemmeno questo è possibile in quanto i bacini minimi per le UTIN e la ginecologia di secondo livello sono di circa 60.000 abitanti. Agrigento ha il suo centro materno-infantile di secondo livello. Enna anche. Quindi cosa avverrà? La scelta più probabile sarà quella di mettere tempo farcito di promesse e garanzie evitando intanto di istituire a Gela la ginecologia e l'ossetricia di secondo livello e l'UTIN fin quando le condizioni diventeranno favorevoli per istituire queste importanti strutture presso l'ospedale di Caltanissetta senza le proteste dei gelesi. Finiscono anche sogni per il Dipartimento Oncologico di Eccellenza. In buona sostanza Caltanissetta è hub, Agrigento è la piccolissima Enna Spock ma ha capoluoghi di liberi consorsi e quindi non temono nulla, mentre Gela, la solita cenerentola, sarà il centro di raccolta della merce per giustificare l'hub a Caltanissetta. Preferiamo di gran lunga, chiude il comitato, come già avviene nelle altre realtà, usufruire dei veri hub di città come quelli etnei anziché avere come riferimento un ospedale di campagna promosso da quelli che il comitato definisce politicanti ad hub di campagna. Le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva alla SIA. La misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro. I cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza, potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune di Gela. Per scaricare l'avviso ed il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'Inps e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Su indicazione del sindaco di Gela, Domenico Messinese, il segretario generale del comune Pietro Amorosia ha inviato una direttiva di servizio ai vari settori. Da questa settimana saranno incrementati gli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali. I front office seguiranno la fascia oraria di urna che va dalle 8.30 alle 13.00. Finora l'orario osservato terminava alle 11.30. Confermati invece gli orari pomeridiani che vengono ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. E adesso parliamo dei disagi che si riscontrano all'ufficio Riscossione Sicilia di Gela, la Mentele, da parte della Libera Associazione Consumatori della provincia di Caltanissetta e del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Il contribuente gelese è trattato a pesce in faccia dalla società di riscossione proprio nel momento in cui, grazie alla definizione agevolata dei ruoli in scadenza il 31 marzo prossimo, centinaia di cittadini tentano di conoscere i propri carichi a ruolo e come possono definirli. Non usa giri di parole Giulio Cordaro, presidente della Libera Associazione Consumatori della provincia di Caltanissetta. Il cittadino è obbligato a fare ben quattro file. La prima per conoscere l'ammontare del versamento da fare per ottenere l'estratto ruolo. La seconda per presentare l'istanza per chiedere l'estratto ruolo. La terza per andare a ritirare, dopo circa 15 giorni proveniente da Caltanissetta, l'estratto ruolo. La quarta per presentare l'istanza di definizione agevolata. Naturalmente, per complicare la vita ai contribuenti, le menti eccelse di riscossione sicilia, rincara Cordaro, accettano il pagamento con Bancomat solo per pagare cartelle, ma non per pagare i pochi euro dovuti per il rilascio dell'estratto ruolo. Il colmo si è però verificato in questi giorni dopo che i vertici palermitani hanno ridotto gli orari di apertura dello sportello di Gela da 5 a 2 soli giorni alla settimana, il martedì e il giovedì. 11 ore settimanali di apertura e ovviamente lunghe file e cittadini che si mettono in fila già alle 6 del mattino. La libera associazione consumatori della provincia di Caltanissetta chiede con forza a riscossione sicilia di rispettare i contribuenti che meritano di non essere trattati come pecore o come carne da macello. Chiede quindi che lo sportello di Gela venga immediatamente riaperto per 5 giorni alla settimana e che il personale, in atto una sola unità, venga adeguatamente impinguato così da offrire ai cittadini un servizio veloce e dignitoso. E considerato che i servizi resi da riscossione sicilia sono servizi pubblici, in caso di mancata attivazione, chiude Cordaro, non esiteremo a denunciare all'autorità giudiziaria i vertici di riscossione sicilia per il reato di interruzione di pubblico servizio. E il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Gela, in merito proprio ai disaggi denunciati, non riesce a comprendere come nel comune più grande della provincia, in termini di utenti e di volume percentuale di riscossione dei tributi rispetto all'intera provincia, sia possibile avere due soli impiegati, spesso non contemporaneamente presenti per motivi di salute o altro. In questo particolare momento di afflusso consistente di utenti, aggrava la situazione dell'Ufficio di Gela la mancanza di personale qualificato. Il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti, ricamandosi ai diritti costituzionali dei cittadini, sollecita provvedimenti urgenti da parte della direzione al fine di rafforzare la presenza di impiegati nello sportello di via Marsala, per evitare che professionisti ed utenti siano spinti indirettamente a rivolgersi agli sportelli di Caltanissetta, con aggravio di spese a carico di ciascuno. Della vicenda sono stati informati il Prefetto e il Sindaco di Gela. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi fino al 31 gennaio presso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana 23, oppure chiamando la segreteria allo 0933 938312. Palermo e Caltanissetta ai primi posti tra le siciliane, con un balzo in avanti di bene 47 posizioni per Leo Luca Orlando. Ragusa, Messina e Trapani, Fanalino di Coda, assieme al governatore regionale Rosario Crocetta. E' questo il quadro siciliano che emerge dalla Governance Poll 2016. La classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto IPR Marketing per il Sole 24 Ore è pubblicata oggi dal Quotidiano. Si tratta di un sondaggio tra i cittadini volto a giudicare la figura del sindaco nel suo complesso. Per quanto riguarda i primi cittadini, fa bene 47 passi davanti rispetto al 2015 il sindaco di Palermo. Leo Luca Orlando si piazza infatti al trentesimo posto rispetto alla posizione numero 77 dello scorso anno. Situazione persoché invariata per Giovanni Ruvolo, sindaco di Caltanissetta, al trentesimo posto. Lo scorso anno l'amministratore Nisseno era al secondo posto tra i sindaci siciliani più amati e trentatresimo nella generale. In discesa al quarantatresimo posto Calogero Filetto, il sindaco di Agrigento nel 2015 si piazzava al ventesimo posto, primo tra i siciliani. Più giù al settantunesimo posto troviamo il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo assieme ad Enzo Bianco, sindaco di Catania e a Maurizio Di Pietro di Enna. Chiudono la classifica siciliana confermando i risultati dello scorso anno i sindaci di Ragusa, Messina e Trapani. Al novantottesimo posto troviamo Federico Piccitto e Renato Accorinti, mentre al centoduesimo Vito Damiano. A livello nazionale è il sindaco di Torino Chiara Pendino il vincitore assoluto del Governance Poll 2016, un risultato in estrema contrapposizione con quello dell'altro sindaco Cinque Stelle eletto nel 2016. Virginia Raggi, primo cittadino di Roma, sprofonda al penultimo posto con il 44% di consensi. In particolare il primo cittadino di Torino realizza una crescita di 7,5 punti rispetto al consenso ottenuto lo scorso anno e ottiene il 62%. Il sindaco di Roma invece registra una forte pressione perdendo circa un terzo del consenso ottenuto alle elezioni della scorsa primavera. Al secondo posto della classifica nazionale si piazza Dario Nardella, PD, primo cittadino di Firenze, mentre al terzo posto si trova Federico Pizzarotti alla guida del Comune di Parma con il 60,5%. Primato negativo, dicevamo, per la Sicilia con il Governatore, Rosario Crocetta, che si piazza all'ultimo posto tra i presidenti di regione confermando di fatto i risultati dello scorso anno. Primeggia il Veneto con Luca Zaia Lega al primo posto con il 60% dei consensi, seguito da Enrico Rossi, PD, che guadagna il 9% rispetto alla precedente rilevazione e si ferma al 57%. Medaglia di bronzo al presidente della Lombardia, Roberto Maroni, Lega, che arriva al 54%, più 11,2%. È previsto per giovedì 19 gennaio prossimo alle 13 il pranzo in occasione degli esami di qualifica che si trarà presso l'Istituto Alberghiero di Gela in via List diretto da Grazio di Bartolo. Sempre giovedì 19 gennaio dalle 17 alle 19 e sabato 21 dalle 9.30 alle 13 è previsto l'open day nei locali della Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Applicate, Elio Vittorini, preseduto da Angela Tuccio. Venerdì 20 gennaio invece alle 11 si trarà nei locali del quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela, retto da Cetta Mongelli, l'iniziativa Parents and Teachers. Incontriamoci per conoscerci. Sarà l'occasione per presentare il piano dell'offerta formativa. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. È il messaggio di quest'anno per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano che si trarranno nella omonima parrocchia di Gela, retta da Don Filippo Salerno, a partire da oggi alle 18 con una celebrazione eucaristica in ricordo di Don Franco Cavallo. Le celebrazioni proseguiranno fino alla festa del Santo, prevista per il 20 gennaio. Appuntamento questa sera alle 21 con la trasmissione 10 domande 10. Nostro ospite sarà il musicista Rocco Mammano. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, tvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, sono aperte le iscrizioni al primo corso sub ex rec dell'anno 2017, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato entro questo mese e si svolgerà presso la sede della Confcommercio Ascomogela in via Cicerone 104. Tutti gli interessanti dovranno effettuare l'iscrizione al corso entro e non oltre il 23 gennaio presso la sede della Confcommercio Ascomogela dalla lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.00. Anche un numero telefonico 0 933 939718. Si darà venerdì 20 gennaio al 17 nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela la presentazione del libro di Sebastiano Tusa, Primo Mediterraneo. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con l'istituto scolastico diretto da Angela Tuccio. Dialogherà con l'autore Lella Oresti, introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando. E' previsto l'intervento anche del pittore Giovanni Giudice. Oltre 4 milioni e mezzo di euro i fondi europei in arrivo con il programma operativo FESR 2014-2020 destinati a chi vuole fare impresa. Di questi finanziamenti 1 milione e 200 mila euro sono rivolti al settore dell'innovazione tecnologica e alle attività volte ad incrementare la competitività delle imprese, i cui bandi sono stati illustrati al centro polivalente Michele Abbate nel corso del convegno organizzato in sinergia del Comune dall'assessorato alle attività produttive della regione siciliana e dall'ordine dei commercialisti di Caltanissetta. Abbiamo scelto anche Caltanissetta da un lato perché dobbiamo dire che la presenza oggi degli ordini dei commercialisti ci dà anche la misura di una nuova grande novità. Anche i commercialisti, tutti i professionisti, questa volta possono essere non solo al servizio di chi fa i bandi ma possono anche parteciparvi proprio come studio. Quindi diventano delle piccole imprese ed è a quel mondo, quello delle piccole imprese che ci rivolgiamo. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei minimis fino all'80%, quindi 200 mila euro per investimenti di 250 mila euro, poi abbiamo i contributi a fondo perduto per le grandi imprese fino al 25%, per le medie al 35% e per le piccole al 45%. Quindi insomma sono un po' questo, cosa fare lo diremo qui tra poco sapendo che la parola innovazione deve essere un po' il filo che deve tenere insieme questo pezzo di Sicilia che se vuole davvero cambiare non deve più legarsi a quanti soldi ci sono, ce ne sono stati troppi e troppi ne sono stati sprecati. Da questo momento in poi credo che dobbiamo invece investirli. Un incontro per spiegare quali sono le misure a sostegno delle imprese previste nel programma operativo del FESR che potrebbero portare una boccata di ossigeno dal punto di vista economico anche a Caltanissetta. Oggi si avvia un progetto che vede l'ordine dei dottori commercialisti, la regione Sicilia, il comune di Caltanissetta impegnati a promuovere il territorio, il territorio di Caltanissetta che sappiamo essere tra gli ultimi nelle graduatorie nazionali come vivibilità e soprattutto come reddito pro capite. Infatti noi abbiamo accolto con favore l'invito rivoltoci dall'assessorato alle attività produttive della regione Sicilia di promuovere i progetti FESR a Caltanissetta. Quindi ci siamo impegnati affinché tutti i nostri iscritti possano attivare le procedure di finanziamento per le aziende che seguono nel migliore modo possibile. Continuano gli appuntamenti insaliti nell'83 stagione concertistica gelese promossa dalla associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 22 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura, Principessa Pignatelli e Roviano, si terrà il concerto lirico del trio Giovanna Nuara, soprano, Giuseppe Infantino, tenore e Salvatore Gaglio, pianoforte. La pagina dello spettacolo all'antitolo di Macchitella Gela oggi alle 19.30 e alle 21.30 sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2. Con l'informazione cinematografica abbiamo concluso l'informazione di oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.